Ha perso il controllo della sua moto probabilmente a causa di un malore ed ha finito la sua corsa contro questa Chevrolet Bianca parcheggiata in via Minervino. Non ce l'ha fatta il 26enne protagonista del grave incidente avvenuto in tarda mattinata alla periferia di Barletta. Sul posto sono sopraggiunte tre equip del 118 ma il giovane è morto pochi minuti dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Miccoli. Sul luogo dell'incidente all'altezza dell'incrocio tra via Minervino e via dei Sali ci sono intervenuti per i rilievi del caso anche gli agenti della polizia locale e della polizia di stato.